Il terreno è il gol decisivo Stretta da sedio, la porta modenese finirà col capitolare Sul fango, un calcio d'angolo e preludio alla mischia Invito ai cascadoni Attenti, tiro di Della Torre parato in slitta E suegua Questo non scappa, si era premunito Quest'altro è addirittura blindato Ed ecco il gol Un capolavoro di equilibrio prima che un pezzo di bravura calcistica Così Ferdeal ha dato al Genova il dodicesimo risultato utile consecutivo Dalla gioia ridono persino gli ombretti Guardate